Quanto pagheresti per dare uno sguardo al futuro? E quel che più conta, se tu potessi vedere il futuro, come sapresti approfittarne? O sarebbe soltanto un'altra opportunità persa? Le azioni che avresti fatto bene a vengere, la terra che avresti potuto comprare, le opportunità che avresti potuto cogliere, ma non l'hai fatto. Quante altre opportunità starai a guardare alla finestra? Questa potrebbe essere la tua ultima chance. Fai attenzione! Una volta ogni dieci anni arriva qualcosa di veramente grande. Negli anni settanta i microonde, negli anni ottanta i videoregistratori, negli anni novanta i pc ed internet. Le persone che erano al posto giusto negli anni ottanta sono diventate milionarie, Le persone che erano al posto giusto negli anni novanta sono diventate miliardarie. Cosa pensi possa accadere nei prossimi anni? Nel suo best seller, Il prossimo tridione, un brillante economista, Paul Zinn-Polzer, afferma che entro l'anno 2010 negli Stati Uniti un altro trilione di dollari all'anno sarà speso nell'industria del benessere, per dare alla gente in buona salute dei prodotti per avere una salute ancora migliore, per avere un bell'aspetto, ritardare l'invecchiamento o prevenire l'insorgere delle malattie. Pensa che molte delle vendite nell'industria del benessere non esistevano nemmeno 20 anni fa. Oggi il loro fatturato ammonta già a quasi 200 miliardi di dollari all'anno, cioè la metà della spesa per le automobili in America. Oggi sono 200 miliardi di dollari all'anno, ma nel 2010? Un trilione, mille miliardi di dollari all'anno. E per chi non è forte in matematica, questa è una crescita del 500%. Com'è possibile una simile crescita? E come la si può predire? Due parole, baby boomers. Ne avete sentito parlare negli ultimi 20 anni? Hanno dettato legge dell'economia negli ultimi 20 anni. Non ti pare sia venuto il momento di trarne vantaggio? I baby boomers hanno ora tra i 37 e i 55 anni. Sono nei loro migliori anni di guadagno. Più soldi, maggior potere d'acquisto. Sono stati i protagonisti nelle vendite di casa, di fuoristrada, dei computers, di internet. In breve, baby boomers e le cose che essi vogliono sono già un mercato di 5 trilioni di dollari nella nostra economia. Da 10 trilioni di dollari in totale. Anche se sono solo il 30% della popolazione, costituiscono il 50% del nostro prodotto interno lordo. Ed ancora più significativo è il fatto che sono in procinto di aggiungere un altro trilione di dollari di spesa all'anno. A questi 5 trilioni per conservare ogni cosa che possono permettersi. Fuoristrada, comodità, computers, la loro giovinezza. Giovinezza, antinvecchiamento, salute, benessere e il prossimo colpo prossimo. Nei prossimi 10 anni i baby boomers americani incrementeranno la loro spesa per servizi legati al benessere da 200 miliardi di dollari di oggi a un trilione. 2,7 miliardi di dollari al giorno. 114 milioni di dollari all'ora. 1,9 milioni di dollari al minuto. Un'opportunità senza precedenti. Per chi la vede, per chi fa qualcosa. Come ne approfiterai? Hai 4 opzioni. 1, come professionista nel settore. 2, come fabbricante. 3, come dettagliante. 4, come distributore. Come professionista, medico, chiropratico, naturopata. I professionisti stanno per fare una fortuna nei prossimi 2 anni. Se possono accedere a finanziamenti dopo la scuola. Se sanno precedere le compagnie di assicurazione. Se possono barattare il loro tempo con il denaro. I fabbricanti. È un grande business. Se hai milioni da investire in infrastrutture, brevetti, ricerca, spedizioni, ricevimento. I dettaglianti. Sicuro, una grande opportunità. Se puoi sostenere i costi del franchising. Accetti una settimana lavorativa di 7 giorni. La pubblicità, l'inventario. Problemi con gli impiegati. Distributore. Beh, le maggiori fortune personali negli ultimi 30 anni sono state fatte da persone che hanno trovato il modo migliore di distribuire prodotti piuttosto che il modo migliore per fabbricarli. Persone come Sam Walton di Walmart, Fred Smith di Federal Express, Jeff di Amazon.com. Quello che tutti hanno in comune è che tutti sono distributori innovativi. Ma Walton e Smith trovarono modi di distribuire prodotti che i consumatori già volevano avere. I nuovi miliardari del ventunesimo secolo stanno facendo le loro fortune nella distribuzione, educando i consumatori su nuovi prodotti e nuovi canali di distribuzione. Questo si chiama business alla velocità del pensiero. Prodotti migliori. Distribuzione migliore. Migliori opportunità. Perché? Perché 78 milioni di baby boomers con mille miliardi di dollari in contante non si possono fermare. Loro vogliono andare sui pattini, vogliono guidare macchine sportive. Non vogliono invecchiare e sono disponibili a spendere qualsiasi cifra pur di apparire giovani in buona salute e pieni di vitalità. Nei prossimi dieci anni i baby boomers americani aumenteranno le loro spese per il benessere da 200 miliardi di dollari all'anno a un trilione di dollari all'anno. E tu sarai pronto? Chi ti ha dato questa presentazione potrà presentarti un modo di distribuzione nel settore del benessere che ha già molto successo e che ha dimostrato di funzionare. Un modello che tu puoi iniziare part time. Da casa tua, senza grandi capitali, senza impiegati e senza tutti i fastidi delle attività tradizionali. Un business che nel tempo che hai a disposizione può fruttare da 200 a 2000 dollari al mese o più. E dato che si tratta di un business da casa, ti permette di gestire il tuo tempo senza obbligo. Immagina nel 1980 Bill Gates che sta cercando investitori perché pensa che ci sarà un'esplosione nel settore PC. Cosa farai tu questa volta? Ricorda che Sam Walton ha fondato Walmart quando aveva 44 anni e a 61 anni era l'uomo più ricco del mondo. Qual è la tua scusa adesso? Se hai guardato questa presentazione con attenzione, non puoi dire che non lo sapevi. Quando i tuoi figli e nipoti ti chiederanno della grande prosperità dei primi anni del 2000, cosa dirai loro? Spiegherai quello che hai fatto e quali benefici hai tratto dall'opportunità? Oppure starai a giustificare il perché hai perduto l'opportunità? Le statistiche sono reali, la tendenza è reale, il tempismo è giusto. Quante altre opportunità ti capiteranno nella vita? Qualunque cosa tu decida di fare, non perdere questa opportunità. Grazie per l'attenzione! Grazie! Grazie a tutti.